Il problema è che in Italia il popolo italiano è diviso in mafie e parrocchie e se fai parte di una mafia non fai parte di una parrocchia, ma se non fai parte di una parrocchia, non intendo parrocchia cattolica, intendo la parrocchietta, e se non fai parte di una parrocchia fai parte di una mafia, noi siamo fatti così.